Ulteriore investimento di Autoteam 9 a Rovigo, siamo con l'amministratore delegato Vito Mandina che ci racconta l'impegno della società Autoteam 9 nella nostra città. Allora, buonasera a tutti, ancora un ulteriore investimento a Rovigo, il gruppo Holding Intergea Nordeste crede in questo territorio, noi come Autoteam 9 siamo arrivati prima con la concessionaria Fiat, Alfa, Lancia, Jeep e Abarth che sta esattamente di fronte a qui, quindi dall'altra parte della strada. Stasera inauguriamo un nuovo sito, è un sito che nasce dalla concessionaria preesistente che era di proprietà di Andreotti, l'abbiamo rilevata, abbiamo portato in questa stessa sede anche il brand Citroen quindi sostanzialmente Autoteam 9 rappresenta tutti i brand del gruppo Stellantis a Rovigo. Io credo che sia un passaggio importante, un investimento importante perché tutte le persone che precedentemente lavoravano in questa sede continuano a lavorare con noi e soprattutto sono state fatte le nuove assunzioni, sono state inserite delle nuove figure professionali. Il gruppo Move ovviamente ha assolutamente intenzione di continuare a lavorare su questo territorio, è un territorio sano, è un territorio importante, noi cerchiamo di sostenerlo sempre perché diciamo sempre che qualcosa dobbiamo prendere ma qualcosa dobbiamo restituire a questo territorio. siamo mobility partner della nostra bellissima squadra di rugby da quasi sei anni, abbiamo vinto due scudetti in questi sei anni di cui siamo molto orgogliosi. Cerchiamo di promuovere tutte le attività del territorio con le associazioni locali, cercando di dare come è giusto che sia il nostro contributo, perché è giusto fare imprese in un territorio, ma è giusto restituire allo stesso territorio un pezzettino di quello che il territorio ci ha consentito di avere. L'investimento è bello, è importante, la sede è completamente ristrutturata, questa sera ce n'eremo all'interno dei showroom, anche in questo caso abbiamo coinvolto tutte le persone che lavorano politicamente, economicamente e attivamente sul territorio del Vigo. Speriamo che sia, siamo certi che sarà una bella serata. Avete intenzione di aprire anche altre sedi al di fuori del nostro territorio? Ci sono altri investimenti in programma? Allora, sul territorio rodigino sostanzialmente come Holding Intergen Nord-Est, tra Autoteam e Autoteam 9, che sono due aziende che compongono la stessa holding, praticamente rappresentiamo tutti i marchi che oggi ci sono sul mercato. Autoteam 9, diciamo così, con la sede PSA, completa il brand del gruppo Stellantis sul territorio. Abbiamo appena inaugurato, vicino a Legnago, a Cerea, la nostra sede Fiat Abarth e Lancia, apriremo prossimamente nella zona di Altavilla-Vecentina, ma non è escluso che su questo territorio, su cui noi contiamo molto, ci possano essere ulteriori sorprese nei prossimi mesi. Con Marco Danelutti, responsabile della sede, parliamo di innovazione nei servizi offerti ai clienti, sia dal lato vendita, sia dal lato manutenzione e assistenza. Assolutamente sì, noi siamo entrati in questo grosso gruppo di concessionari che si trova in tutto il Veneto e anche oltre e sicuramente oggi riusciamo a proporre dei servizi con delle metodologie sicuramente più aggiornate, più efficaci e sicuramente anche nuovi, adeguati al mercato, a quello che richiede oggi il mercato sostanzialmente. Quindi più servizi anche per tutti i cittadini del Bolesine che possono fare riferimento a questa sede per le loro esigenze. Assolutamente, siamo a disposizione di tutti i potenziali clienti della provincia di Rovigo, siamo qui, siamo pronti per accoglierli tutti, facciamo costantemente formazione, facciamo costantemente attività anche di marketing giusto proprio per comunicare quelli che sono i nostri plus che oggi riusciamo ad offrire.